di nuovo il telefono si allora rispondo si babbo pronto? oh salve sono suo severina del convento di Sant'Orsola il suo legname non ci serve più ma come? non dovevate fare i banchi per la cappella? e come fate senza banchi? e restiamo tutti in piedi se è un fioretto e anche io allora devo fare il fioretto e voi mi avete ordinato tre quintali di legname e io l'ho fatto segare in campagna tutti in palanconi dove me li metto adesso tutti questi palanconi? mi sono monaca non mi intendo di queste cose riverismo grazie San Cristino tre ordinazioni tre avevo e sono state cancellate nel giro di tre minuti e qui una figlia balla e una moglie prega salute e prosperità sono rovinato sono rovinato rovinato? non capisco nemmeno io capisco padre sapesse una cosa straordinaria ma cos'è successo? ma cos'è successo? dunque suona il telefono zitta tu e sa chi era? e come faccio a saperlo 36.020 ma che fa adesso dai numeri don Silvestro? Clementina per favore chiedo su se mi sono distratto un attimo allora signor sindaco visto che tutte le sue ordinazioni sono state annullate allora ci darai il suo legname eh certo 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 eh come come come? e lei che ne sa? eh me l'ha detto lei no io no ah la signora no io no Clementina sì? no 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 bravo 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 Don Silvestro bravo lo sapevo che a tutto c'era una spiegazione logica prima eri monaca del campanile or non sei monaca e fai il fucile ober figlia del reggimento atto terzo scena del raggiro signore ho sbagliato fa qualcosa ti prego pronto? sì? e le orsoline? suor Clementina pronto? sì il legname è pronto e parte domattina ciuff 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 fai il trenino ma insomma basta benedetto gliel'ho già detto cinque minuti fa lei farebbe scappare la mia zezza anche al padre eterno occhio alla voce i suoi palanconi non ci servono più la saluto grazie prego e va bene clero avete ragione voi basta tanto il legname è mio e non ve lo do ma perché? perché due non fa tre perché il papa non è re e perché il re non è papa è un ragione del regname è una rama te cerco a noi a te non serve quell'egname da cerco delle gname ormai che te ne fai il suo legname non le serve più non mi serve più strulla strulli tutti quell'egname vale tanto oro quanto pesa quell'egname è danaro Questa è solo carta straccia, questo che ne poterai Luca, Luca, tanto che vuoi Via, 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 buttalo via Via, 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 vai polizia Butta, butta, non ti serve più Straccia, straccia, non ti serve più Brucia, 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 fanno farà Non ci credo, e questi nessuno me li prende Papa, tu devi crederli Sì, maestro è freddo e quindi se ne intende No, no, no e poi no Fue le llame mio, che non me lo darò mai Via, via, buttalo via Via, via, muta l'uncia Via, via, muta l'uncia Via, via, muta l'uncia Via, via, muta l'uncia Via, muta l'uncia Via, muta l'uncia